volendo possiamo creare anche la mesh come vi ho detto per gli splash separatamente quindi io adesso vado a cancellarmi un po di elementi praticamente tutto ok anche questo anche il domain lasciamo soltanto le rocce per una questione visiva e togliamo via anche gli emitter lasciamo anche la camera e anche la mesh la togliamo perché ho fatto questo perché io avendo esportato i vari bin quindi avendo esportato il tutto in formato bin che è quello delle standard particles posso con un nb loader andare a caricare la sequenza in formato bin da qui lo ad sequence particles ho i vari bin che vengono creati da queste ultime versioni vengono creati anche le cartelle quindi ho i cartelli di bin in questo caso ho la form ma a me interessano gli splash quindi ho uno splash potrei caricare gli splash ed eccoli qui e potrei andare a realizzarmi sostanzialmente una mesh che sia separata ok utilizzando di fatti questi bin questi sono tutti gli splash che abbiamo in fase di calcoli in fase di emissione appunto del domain di interazione col domain con le rocce quelli che abbiamo creato sostanzialmente questi sono gli splash e quindi io potrei calcolarli separatamente separatamente mi basterà poi dopo andare nella mesh a creare un particle mesh e andare praticamente a realizzare la mesh come se stessi utilizzando sostanzialmente un formato di ibrido un formato di ibrido o di diverso come abbiamo visto nel corso 101 che allora penso che stessi utilizzando questi bambi da ibrido di ibrido di imprescindibile da ibrido di ibrido di minuto di un formato di ibrido di spaino di un formato di ibrido di